buongiorno amici di youtube ripresa di sandro dalla partenza della funivia di margno pian delle betulle questa è la salita con la funivia verso il pian delle betulle alle mie spalle qui godiamo di un'ottima visione da questa terrazza si vede tutta la valle verso il paese di parlasco questo sottostante è il parcheggio dove si può depositare l'auto e avere la possibilità di salire o in funivia o attraverso il sentiero escursionistico qui davanti abbiamo la parrocchia del comune di margno guardate questo bellissimo panorama godiamo di un'ottima visione davanti a me abbiamo anche l'hotel larice è un hotel abbandonato da circa dieci anni è un po degradato ovviamente e non è più stato ristrutturato possibile visitare solamente l'ingresso ciao da questo youtube di sandro